bella a tutti ragazzoni e benvenuti in questo nuovo video sono maullo 941 e oggi siamo in un nuovo episodio con il nostro livorno signori su ps4 andando avanti sulla master league signori scorso video che è uscito martedì abbiamo battuto il mains e questo è stato molto importante che siamo andati avanti un attino nelle 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 situazioni scusatemi possiamo mettere 10 minuti signori di partita e io la metto insieme a voi così magari le partite dura un pochino di più e riusciamo a creare un pochino di più di azioni e niente adesso abbiamo la partita di coppa la formazione è sempre la stessa noi non la cambiamo giochiamo contro il the graph shop bene mi fa piacere siamo in la semifinale ovviamente partiamo subito la formazione è sempre la stessa stiamo portando molto sui giovani di questo livorno per cercare di farli crescere abbiamo comprato due giocatori nel mercato invernale ovvero il famosissimo gas gas e il celeberrimo utaca che ci dovranno aiutare a raggiungere i nostri obiettivi che sono ovviamente speriamo la finale di questa coppa e il secondo posto almeno in campionato ho messo dieci minuti l'ho detto sì così un attino dovremmo avere più possibilità di creare qualche azione divertente attenzione subito ma perché il pallonetto ma che problemi hai ma con quelle cazzo si tira signori io poi io passo da da un da un ispro a un pes e mi confondo completamente mi per mi perdo i tasti mi perdo i tasti mi fate capire un attimino scusa mi dai il pallone devo capire se si tira con devo capire se con quale cazzo la si tira scusa zio mi dai il pallone grazie fatemi capire un attimino una cosa molto semplice allora se io con un orgasmo un orgasmo perciano mi darò per utaca che riesce a girarsi utaca no questo è il cross va bene va bene va bene allora è giusto allora ammaccavo il tasto giusto signori bandicca addirittura ci hanno bandicca questo non penso che sia il bandicca che conosciamo tutti gas gas cerca subito d'acca utaca utaca adatta porca miseria non ho guardato il radar questo è stato un errore mio che non ho guardato il radar tutti allunghi troppo il pallone gambardone non recupera gambardoni gambardoni che cerca utaca 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 no abbiamo cercato a tenere a tenere cercalo la c'era vita che cazzo da dove sei arrivato c'era mitaro rossetti rossetti porca miseria grande azione di rossetti porca miseria butta da sotto pallone al centro pallone al centro stacco di testa che non ci arriva però c'era mitaro però riesce a metterla giù c'era mitaro la gira per gambardoni che si crea lo spazio quasi in cespica su se stesso gambardoni altro che si crea lo spazio di testa il primo tentativo non riesce grandissimo qui l'anticipo pallone per un orgasmo che si gira si crea lo spazio un orgasmo al centro campo è tirato giù bravo un orgasmo che gli ha tagliato palesemente alla strada che brutta palla gian lombardo del tongo del tongo che non riesce nemmeno a sto parla mamma mia del tongo ti faccio fare un volo io appena riapre il mercato che neanche la rainer sa che che destinazione prendi attenzione vargas mannaggia 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 sono pochi signori i giocatori che possiamo salvare di questa rosa sì io sto facendo crescere un pochino i giovani sperando che l'anno prossimo magari mi arrivino qualche offerta e se l'anno rosso riuscissimo a centrare che cazzo fa si è fermato riuscissimo a centrare la promozione in serie a magari cerchiamo di costruire una squadra un orgasmo che cerca subito utaka 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 si gira si allarga utaka si allarga utaka 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 strattonatissimo utaka un minuto di recupero scazzerà meno male che ha allungato le partite dai ci riusciamo no niente abbiamo avuto una buona occasione con con rossetti non siamo riusciti a sfruttarla va bene va bene va bene va bene non fa niente non fa niente però ci noi continuiamo a crederci continuiamo a crederci questa comunque la partita da ondata signori ci giochiamo poi tutto anche nella partita di ritorno certo portarci a casa oggi tre punti portarci a casa la la vittoria sarebbe importante perché metteremmo metteremmo non lo so gli alleviamo la palla a questo il nuovo ronaldo della situazione non mi parlate di ronaldo signori che si è rotto nel video nel nel video vargas grandissimo momento di vargas che poi cerca un orgasmo questo non è fallo non è fallo e un orgasmo ti recupera il pallone così timpa no ma che cazzo non la fai ma che cazzo non la fate signori dai 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 signori dai 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 signori dai 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 parla mia vabbè rincredinito completo allora questi chi cazzo allora sono che stanno giocando così che ci stanno tenendo così col col freno tirato signori porca miseria rossetti attenzione rossetti riesce a girarsi rossetti rossetti non ti puoi far fare normalmente rigore però però riesce a rientrare rossetti o questo è il rigore però scusa zio ma che fa no vabbè ma stiamo scherzando ma stiamo scherzando boh boh utaka utaka non ci posso dire non ci posso che non mi ha dato cioè c'era un fallo nettissimo grande amelia santo amelia santo amelia santo amelia da livorno complimenti amelia stavamo per perdere il pallone però va bene cioè uno gli fa un complimento e poi loro giustamente presi alcun no ma non era fallo mai nella vita ma stai scherzando che dai questi falli inutili e stupidi che razza di falli sono che razza di falli sono riusciamo a levare sta pallone da qui che mi metto un attimino di ansia mi metto un attimino di ansia questo pallone qui a porca miseria calcio d'angolo parte il traversone pallone centrale amelia non ci arriva vargas penso l'abbia buttato fuori effettuano le sostituzioni a chi ma perché non ci siamo andati anticipare sto pallone fuori sto pallone riusciamo a recuperarlo un cazzaro di pallone porca miseria stanno a fare tutta la partita loro dai dai no vabbè i miei non ci hanno voglia i miei non ci hanno voglia di giocare signori non hanno capito che se non giocano non paghiamo gli stipendi mi manca questo passaggio utaca no vabbè però sta marcatura così asfissiante su utaca è una rotta di scatole secondo tempo non siamo riusciti a toccare un pallone signori uno uno che sia uno non siamo riusciti a fare niente questi da dove sono spuntati questi non sono in stagione in campionato con me questi rossetti 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 con calma rossetti no ma sta scherzo no no signori ma questo è un arbitraggio proprio proprio scorretto arbitraggio scorretto ma dai ma ma era fallo netto era falla mi fischi la mi fischi la fine ma è uno schifo terribile schifo 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 vabbè come era una partita di coppa ci può stare lo 0 0 ci può stare punteremo tutto al ritorno signori punteremo tutto al ritorno mi ha fatto un pareggio che dovrebbe darci dei punticini con i quali dovremmo riuscire comunque a pagare gli stipendi e questo non è male come come situazione come siete perfetto ok abbiamo preso 400 punti che valgono il pagamento dei stipendi nostri ragazzi salgono ma non tanto del tongo migliora a ragazzo avete un attimino via dei punti però perché io dai norgas dammi soddisfazioni utaca non c'ha voglia di far nulla grande rossetti grandissimo rossetti ha preso qualche punto giallo no attacco 76 precisione tripping è 75 precisione non so che cosa 69 precisione non so che cosa 67 calcio punizione sta salendo il ragazzo dai ragazzo sta salendo dai rossetti ha 19 anni rossetti mio mi servi mi servi rossetti ok va bene signori detto questo io vi ringrazio credo questo video vi ringrazio per il like per i commenti per il supporto e noi ci vediamo sempre qui sul canale per continuare la nostra avventura e per continuare la rincorsa ora abbiamo altre due partite di campionato che daranno un attimino la nostra base sulla quale andare a lavorare detto questo signor io vi ringrazio questo video vi ringrazio per il like per i commenti presenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella traga ciao ciao